Nel salone teresiano della biblioteca universitaria di Pavia, alla vertigine delle liste, si contrappone l'ordine dei libri. Elenchi di parole, idee, indici e titoli nelle liste autografe di autori come Eco, Quasimodo e Montale dialogano con l'organizzazione dei cataloghi e dei libri, rari e antichi, ricchi di tavole illustrate e intorno le opere dell'artista Daniele Ilariucci. Cosa nasce da questi incontri? Scopriamolo insieme, fino al 27 novembre.